Ciao a tutti da Nicola Castiglione della Selezione Nazionale dei Piloti e benvenuti al TG Notte. In apertura voglio fare gli auguri buon compleanno a uno degli iscritti storici al canale, credo che sei qua da fine 2021 o inizio 2022. Lui si chiama Lillo Di Stefano e oggi compie gli anni, quindi auguri Lillo. Bene, poi non so se ci avete fatto caso, qui accanto c'è un nuovo logo Sim Race Lab, marchio conosciutissimo tra coloro che fanno simulazione ad alti livelli. Vi parlerò di loro nei prossimi giorni, intanto oggi li iniziamo ad ospitare qua perché qua ci resteranno ed è un qualcosa che sono sicuro mi piacerà tantissimo perché stiamo un po' evolvendo e programmando un qualcosa che sono sicuro farà impazzire gli iscritti al canale. Comunque diamo tempo al tempo. Adesso invece lanciamo la sigla del notturno e poi partiamo per questa puntata. Oh ragazzi, vi devo ringraziare, ho visto che vi è piaciuto il TG Skid, tante visualizzazioni rispetto a quelle che facciamo in media su iniziative del genere nel nostro secondo canale, tra l'altro lo trovate qui sotto in descrizione e sono contento, quest'antipasto particolare al Rising Time vi è piaciuto e la cosa mi fa veramente tanto 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 piacere. Allora, iniziamo questa puntata con una donna che tra l'altro stava andando veramente molto molto forte ma è stata frenata dalla bandiera rossa in quinta posizione, seconda e terza due Cadillac che sono andate molto bene, però sono limitate da una velocità di punta non eccezionale questo in una gara di 24 ore potrebbe essere un limite oltretutto partire primi, secondi, quarti, quinti, poco importa perché la gara è veramente lunga e si può fare la differenza solo nelle ore finali quindi incrociamo le dita e a proposito di Le Mans, già che ne parliamo riconoscete questo ragazzo a destra? è Kaylee Rovampera qui nel 2022 campione del mondo rally 2022 e 2023 quest'anno si è preso un anno sabbatico e credo che gli anni sabbatici per lui siano forse più di uno perché ha espresso il desiderio di correre a Le Mans e presto, essendo lui pilota Toyota, proverà appunto la Toyota che rimane una delle favorite per questa 24 ore di Le Mans passiamo alla Formula 1 perché la Ferrari al Mugello ha completato i test con Leclerc domani girerà con Sainz e ha fatto la bellezza di 120 giri l'unica cosa nel pomeriggio è arrivata l'acqua e quindi è girato anche sul bagnato speriamo che domani ci sia solo asciutto perché è importante fare acquisizione con condizioni che molto probabilmente troveremo in Spagna cioè pista asciutta anche se io presumo che in Spagna farà molto più caldo di quello che c'è stato oggi e che ci sarà domani al Mugello poi ancora ragazzi l'angolo della storia oggi non possiamo non ricordare il mitico Riccardo Paletti e veramente ogni volta che si parla di questo ragazzo che ci ha lasciato a soli 24 anni mi viene un po' il magone però ci tenevo tanto tantissimo a ricordare questo pilota che un po' a tutti è rimasto nel cuore e prima di andare ai commenti dove apriremo anche come dire darò una risposta a un ragazzo che mi ha fatto delle domande abbastanza tecniche e quindi niente mi sono conservato il messaggio e lo leggeremo diamo un'occhiata alle nostre classifiche perché abbiamo l'F1 Fantasy che ripeto abbiamo la bellezza di 607 team in questo campionato che vede sempre in testa passe rotti squamati questa qui è il campionato Racing Time con 2117 punti davanti a BK Scuderia 3 Penna Gialla Lucy Bell Take & Stroll Little Dream Porci Life Stuntman e a scorrere tutti gli altri ma abbiamo anche la classifica dei commenti e vi dirò credo domani o dopodomani se la chiudiamo adesso con questa classifica qui oppure no ma vi ricordo che oltre a quelli che vedete i primi 20 daremo anche dei premi a sorteggio dal ventunesimo posto in giù quindi in testa a tutti Christian Biagiotti con 1030 punti poi Alessio Longo secondo 975 completa il podio e Mattia Russo 971 poi abbiamo Vincenzo Guglielmo Tecchua Simone Andrea Zappalà User e Chubab e via scorrere tutti gli altri abbiamo donato in ventesima posizione 277 punti per lui e andiamo all'angolo dei commenti e qua ci perdiamo un po' di tempo allora in pole position abbiamo Marco Onesti poi Tecchua MS Gab7 Guglielmo che conosceremo tutti finalmente sabato mattina Francesco Zito e Gaetano Mocciag poi abbiamo i commenti più di tendenza Hypermonkey che dice che le idee fatte nel pensatoio sono le migliori poi abbiamo Aldino Guglielmo ancora Patrizio della Valle Jacopo e poi abbiamo Nicola aspetta che lo ingrandisco questo perché l'ho preso apposta datemi un attimo che sistemiamo tutto eccolo qui Nicola Antonicelli che mi ha scritto una cosa troppo simpatica è essenza quotidiana per quanto riguarda il motosport ma grazie siete voi la mia essenza quotidiana e poi c'è Giuseppe che mi ha scritto un messaggio molto molto lungo al quale voglio rispondere per come posso eh ragazzi per come posso allora per quel che riguarda il setup il discorso delle piccole modifiche correttivi al posteriore centra veramente ben poco il problema è iniziato con il discorso dei freni che sapete mi preoccupa sempre tantissimo poi è continuato con tutta una serie di cose che però purtroppo non possiamo qui stare a discutere comunque è da escludere diciamo totalmente poi lascia perdere se arriveranno smentiti o meno però fidati il discorso legato alla modifica al correttivo delle sospensioni posteriori e questo è uno poi per quel che riguarda il motore ragazzi allora il motore intanto era era vecchio vecchio quello che ha corso in Canada eh aveva tanti tanti chilometri ed è uno poi la problematica è un po' come dire più complessa di come sembra però in ogni caso la cosa importante è che i motori sono recuperabili e questo tipo di problema elettrico che ha mandato in tilt il motore di Leclerc non dovrebbe più insorgere e comunque anche il fattore pancia rovesciate di cui mi chiedi tu non è legato al rendimento del motore alla differenza che c'è nello sfruttare la parte elettrica tra l'altro ti dirò di più oggi ho parlato ho avuto il piacere questo lo racconto un po' a tutti di parlare con Andrea Tuffariello che se mi seguite sempre se seguite sempre il Racing Time sapete perfettamente chi è vi ricordate quel video con lo sfondo nero e il punto interrogativo giallo dove ho detto cioè ho detto titolato guardate un po' chi mi è venuto a trovare oggi ebbene lui è uno che ha lavorato in Ferrari adesso è ingegnere di pista in giro spero presto di vederlo con una scuderia top e poi subito dopo spero di vederlo per quel che riguarda il discorso Ferrari lui è una delle menti di Sim Race Lab e oggi ci ho parlato veramente tanto spero di potervi proporre prestissimo un qualcosa che vi farà impazzire letteralmente e che vi farà capire quanto importante sia il ruolo dell'ingegnere di pista è qualcosa di fondamentale e con lui stiamo un attimino leggendo tra le righe alcune telemetrie perché appunto sembra esserci un modo di sfruttare la parte elettrica del motore un po' diversa rispetto al passato e soprattutto un modo di sfruttare la parte elettrica del motore che sta facendo un po' di differenza ecco tutto qui ora presto tardi si ci arriva a tutti però in ogni caso il questo clip che c'è non è assolutamente legato alla fluidodinamica interna e al fatto che sono stati rovesciati le labbra rovesciate le labbra delle pance della Ferrari quindi rispondo in questo modo a Giuseppe Annino e spero di essere stato abbastanza esaustivo purtroppo non si può discutere di tutto in questa piattaforma bene spero che questo video vi sia piaciuto se è così lasciate un like un commento condividete il video sui vostri social attivate la campanellina io vi ringrazio vi saluto per avermi seguito sin qui iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto vi lascio con lo stacchetto finale e noi ci si vede domani così stasera finalmente si va a letto un po' prima ciao ragazzi